8 GB di VRAM so pochi, probabilmente la maggior parte delle persone pensa che siano quasi totalmente inutili su una scheda nuova che possa uscire a maggio 23. Tu cosa ne pensi? Pensi che siano inutili? Non pensi che siano inutili? Fammelo sapere, scrivimi sotto un commento. Fatto sta che anche alla luce delle ultime uscite e annunci, vedi la 4060i di Nvidia, questo argomento non sembra essere chiuso affatto definitivamente, anzi sembra essere anche parecchio controverso. Quindi vediamo un attimino com'è la faccenda di per sé e vi do quello che è il mio modesto parere sulla faccenda dei GB. Raga, ma che le facciamo a fare le build se poi nemmeno la chiave di Windows 10 originale ci compriamo? Quando oggi fondamentalmente una chiave di Windows costa veramente poco, un sito affidabilissimo è ad esempio il nostro sponsor, UGIS, dove potete trovare chiavi di Windows 10, chiavi di giochi, un sacco di cose e soprattutto in sconto, perché grazie al codice MHD voi potete portarvi a casa Windows 10 Pro che costa 20 euro, lo pagate 15 euro. Oppure se voi avete Windows 10 Home sul sito lo trovate a 17 euro, codice sconto MHD voi a casa ve lo portate a 13 euro. Non state là a sbattervi con l'Office 365 che ogni anno dovete pagare. Office 2019 Professional Plus, ad esempio su UGIS, costa 55 euro, pagamenti sicuri con PayPal, la chiave vi arriva direttamente sulla vostra mail, la inserite, attivate il vostro Windows o il vostro Office ed il gioco è fatto ragazzi. Ciao ragazzi bentornati, iscrivetevi al canale. Perché non lo so, perché non... iscriviti, non costa niente, metti una bella iscrizione, lasci un like così non ti perdi i prossimi video, dove andremo poi, inizieremo dalla seconda metà appunto di questo mese in poi, a vedere effettivamente queste schede, faremo dei test, prossimamente bello video sul DLSS Frame Generator che vi sto preparando da più di due settimane. Il discorso di oggi qual è? Abbiamo già parlato della questione della VRAM, abbiamo visto su questo canale proprio poche settimane fa che una 3060 da 12GB effettivamente oggi è una scheda molto acquistata da tanti di voi e molte persone l'acquistano specialmente per il fatto che abbia 12GB di RAM e quindi è un po' un luogo comune per certi aspetti che le schede video che abbiano più giga di RAM siano effettivamente delle schede che conviene acquistare maggiormente rispetto a delle schede che invece magari hanno 8 o 10GB di RAM, no? molti di voi infatti anche su Telegram quando parliamo, quando mi lasciate i commenti uno dei punti forti soprattutto di AMD è il fatto che la maggior parte delle schede di AMD abbia più RAM delle schede video Nvidia ieri è uscita la notizia ufficiale con delle slide e una sorta di presentazione a breve vedremo sul mercato le 4060 Ti perché dico le 4060 Ti? perché Nvidia ovviamente sentendosi chiamata in causa diciamo così da questa situazione un po' di insicurezza sulla quantità di VRAM da inserire sulle schede ha deciso di proporre la 4060 Ti in due differenti versioni una da 8GB che costerà 399 dollari e al cambio probabilmente arriverà intorno alle 4,39 4,49 e una 4060 da 16GB quindi il doppio che dovrebbe rimanere comunque sulla stessa linea di performance almeno stando sia dal punto di vista dei CUDA core che dal punto di vista del memory bus ma ovviamente ha più giga di RAM e costa all'incirca 4,99 al cambio dovrebbe stare fra i 5,59 e 5,49 quindi due schede che comunque costano un pochettino la 4060 Ti se mantiene delle buone performance e questo poi lo vedremo potrebbe essere un'ottima alternativa questa mossa di Nvidia personalmente io la vedo più che una cosa diciamo realmente fatta per delle esigenze di mercato la vedo più come una sorta di situazione che diciamo viene a crearsi nel momento in cui c'è una sorta di malcontento su questa questione di giga no la Nvidia dice secondo me a questo punto facciamo contenti tutti quanti facciamo due versioni da 8 e una da 16 anche se fondamentalmente poi penso che una delle due e penso quella da 8 giga sarà poco venduta a questo punto perché si preferirà andare su quella da 16 non vi voglio tirare il pippone sulle specifiche perché poi quelle le vedremo con calma e non vi voglio diciamo andare a fare delle analisi delle performance perché dalle slide ovviamente di Nvidia come sempre non è che si riesce a capire moltissimo sembrerebbe una scheda che va più forte sicuramente della 3060 Ti e che probabilmente sfiorerà le performance di una 3070 sbarra 3070 Ti il problema della VRAM allora ragazzi io la penso in maniera molto semplice cioè se è una scheda è una scheda video che non conviene acquistare è una scheda video mal posizionata sul mercato è una scheda video mal posizionata dal punto di vista delle performance quindi praticamente se è una scheda video di merda boh o c'è 8 giga o 16 giga resta comunque una scheda diciamo di merda no? quindi non è il fatto che abbia 16 giga che fa di una scheda effettivamente un prodotto appetibile sicuramente su delle schede ok già di per sé buone o comunque schede che sono consigliabili all'acquisto però averne di più quindi averne 12 16 è qualcosa di ovviamente in più è qualcosa di da preferire quindi già secondo me la 4060 Ti da 8 giga è una scheda che probabilmente è inutile ma è inutile non tanto dal punto di vista che non regge i giochi o che 8 giga siano realmente pochi è proprio inutile come concetto cioè a questo punto nel 2023 se dobbiamo cacciare una scheda video cacciamone una da 16 giga punto e basta o magari non potevano fare un modello minore però non sto a giudicare di per sé questo a mio avviso è molto una questione di target ed è molto una questione di tipo di gaming a cui noi puntiamo dire che 8 giga oggi sono realmente pochi lo abbiamo visto nel video dove abbiamo testato la 4070 scusatemi la 3070 la 3060 Ti effettivamente su alcuni giochi i più pesanti le texture soprattutto portano la VRAM facilmente a saturarsi su 8 giga anche in full HD difficile che su tutti i giochi voi andate a saturare 8 giga di RAM però capita quel gioco in quel momento che magari a lancio o magari poco ottimizzato penso ad un Hogwarts Legacy penso ad un The Last of Us in full HD maxato e tutto può darsi che gli 8 giga ve li arrivi a saturare ma non è una situazione ok che può diciamo discriminare il funzionamento di tutti i giochi quindi per me in realtà 8 giga non sono realmente pochi oggi se uno ambisce ad un full HD il problema è che queste schede 4060 Ti soprattutto considerare le schede per il 1080p secondo me mi sembra un po' riduttivo perché secondo me si gioca tranquillamente anche in 1440p maxato e poi con l'aiuto di vari frame generator e DLSS cioè si può ambire a qualcosa in più ok quindi ci sta fare qualcosa in più su queste schede senza farlo apposta Nvidia propone due versioni una da 16 e una da 8 e la versione da 8 sembrerebbe essere quella originariamente concepita da Nvidia quella da 16 sembrerebbe quasi una versione fatta di proposito per accontentare il pubblico mainstream no per dire guardate che se vi lamentate la VRAM sappiate che c'è anche quella da 16 giga probabilmente questa sarà una cosa che verrà fatta anche sulla 4060 liscia che vedremo più avanti il discorso è che ovviamente Nvidia non lascia quasi niente al caso e perché io vi dico che la questione RAM è una questione importante quando noi parliamo ad esempio di bandwidth di memory bus ma che poi non è così essenziale per quanto riguarda il quantitativo finale di RAM e se una scheda video è una buona scheda video può diciamo essere comunque considerata tale Nvidia senza manco farla apposta qualche settimana fa ha diciamo annunciato una cosa che è passata anche un po' in sordina ma che secondo me ha effettivamente un grande impatto cioè una nuova tipo di compressione delle texture perché voi sapete che quello che va ad agire prettamente sulla quantità di RAM sono effettivamente le texture le texture che nei giochi diventano sempre più pesanti oggi abbiamo titoli dove il fotorealismo inizia a toccare dei livelli abbastanza elevati dove vedete giochi come cyberpunk giochi dove si cerca sempre di sperimentare la VRAM è diventata come appunto in questi ultimi mesi un argomento sensibile alla faccenda e effettivamente se voi andate a vedere un attimo la questione delle texture noi ci rendiamo conto che la compressione delle texture cioè il metodo con il quale la scheda video e il processore gestiscono le texture è un metodo che da diversi anni non viene in qualche modo diciamo migliorato per fare qualcosa cioè per ridurre un po' sta pesantezza sulla VRAM e figuratevi che in molti casi viene ancora gestito con il vecchio metodo a blocchi di cui non sto qui a parlarvi perché non sono uno dei massimi esponenti sta passando un aereo, sta passando il treno, sta passando il mondo in questo momento ci ho detto il punto fondamentale quale oltre ad essere diciamo pesanti queste texture sono anche lente quindi la scheda video ha difficoltà nella fase sia di compressione che di decompressione durante il rendering dei giochi Nvidia annuncerà per luglio già è uscito a questa diciamo questo documento dove hanno annunciato un nuovo sistema ovviamente proprietario Nvidia di compressione neurale delle texture dei materiali cioè quando vengono ricreati particolari materiali in digitale si possono utilizzare dei metodi di compressione delle texture basate ovviamente su intelligenza artificiale e quindi situazione tensor core già ci siamo capiti dove si riesce a ridurre addirittura di un terzo la RAM occupata mantenendo degli ottimi livelli di qualità delle texture molto simili e in alcuni casi anche migliori delle compressioni tradizionali quindi basate su file e metodo a blocchi che sono parecchio pesanti quindi morale della favola voi capite che sembra quasi che a volte Nvidia lo faccia apposta è quella azienda che nel momento in cui si crea un problema di fronte agli occhi e questo problema inizia a diventare evidente a tutti Nvidia dice guardate che noi questo problema già lo stiamo affrontando già stiamo a uno sviluppo di una soluzione e probabilmente questa soluzione è la nuova compressione delle texture sui materiali basato su rete neoreali che ridurranno di un terzo la pesantezza delle texture e le renderanno anche molto più veloci al caricamento quindi non è una faccenda così scontata può darsi che anche nei prossimi anni una tecnologia del genere non è affatto da sottovalutare Nvidia ci ha abituato che quando si mette in testa una cosa ci riesce anche bene a farla nel modo migliore una cosa del genere potrebbe cambiare facilmente uno scenario di un gioco che magari in VHD 1440p che va a saturare 10GB di VRAM diminuendo in gran parte anche di un terzo di un quarto la VRAM voi guadagnate un bel po' in definitiva queste schede noi le vedremo sicuramente al lancio e poi se riesco a trovarne una faremo anche una simile recensione per quanto riguarda 16GB versus 8GB se avete l'opportunità e avete diciamo un budget che potete investire conviene sicuramente prendere una 16GB o una scheda con più giga proprio come questione di principio per l'anno in cui ci troviamo perché siamo nel 2023 cioè voglio dire non stiamo nel 2014 2015 2016 dove le 1070 Ti avevano 8GB di RAM quindi voglio dire però non ingigantiamo troppo le cose non facciamo le capre ragazzi non è che voi nei commenti o comunque in giro no questa è una scheda video che fa schifo perché ha 8GB di RAM e magari voi una 6800 XT ok che è una ottima scheda ma la mettete avanti a schede superiore dal punto di vista delle performance solo perché ha 2-4GB di RAM in più perché è vero che la RAM in più è una cosa in più che può servire ma non è che tutti i giochi vi saturano 8GB di RAM e non è che voi andate per forza incontro a grosse problematiche ok con una scheda da 8GB se oggi la dovete acquistare io la eviterei questo è poco ma sicuro ma comunque vedremo che lo sviluppo da questo punto di vista è ancora aperto e ci sarà sicuramente da valutare poi più avanti in maniera del tutto particolare io vi ringrazio di essere stati qui con me ovviamente in questo video fatemi sapere voi che cosa ne pensate e io vi do appuntamento a domenica come sempre qui su MV Arto ciao ragazzi ciao